C'è un grido di un'intera comunità che chiede giustizia. Mobilitazioni si registrano sui pubblici fronti della politica sia regionale sia nazionale, oltre che sindacali. Al capizzare dello sportello postale di Granieri sono giunti i parlamentari nazionali Giovanni Burtone del PD e Salvatore Risi dell'NCD. Oltre alla parlamentare regionale del PD Concetta Raia e il capogruppo di Forza Italia, l'Assemblea regionale siciliana Marco Falcone, che hanno tutti ribadito il loro impegno affinché la direzione di poste italiane mantenga l'esistenza di questo servizio. Deve comunque rimanere aperta. Io farò in modo, attraverso anche la mia collega del PD Luisa Albanella, deputato nazionale, e io come deputato regionale, a presentare interrogazioni per evitare di far chiudere questa struttura, sapendo che non sarà facile. La prospettiva è quella di rilanciare questo territorio, per esempio, ha una sua vocazione agricola e sicuramente l'agricoltura può offrire un rilancio di opportunità. Quindi bisogna intensificare, rafforzare tutto ciò che è necessario perché questa comunità possa esprimere questa attività. La presenza di un ufficio postale è certamente un presidio importante per dare dinamismo a questa comunità. Ulteriori reazioni sono giunti dagli ambienti sindacali, dove la presenza del segretario regionale della CIS, del settore poste, Giuseppe Lanzafamme, che ha annunciato la chiusura dei 27 uffici postali in Sicilia e del dimensionamento di altri 13. Stiamo conducendo una battaglia, delle petizioni, siamo in tutti i luoghi, la prossima settimana saremo anche a Messina, dove è la più penalizzata come provincia, ma certamente stiamo a sostenere quelli che sono i bisogni dei cittadini, ma anche perché noi i servizi postali, i servizi e la garanzia dei posti di lavoro, non c'è dubbio. Negli ambienti politici, sempre in sede di Assemblea regionale siciliana, il parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Cappello, a sostenere la legittimità di questo servizio a beneficio della comunità di Granieri. La scelta che ha fatto Poste Italiane di sopprimere questo ufficio è assolutamente inaccettabile, anche perché Poste Italiane qui esercita un vero e proprio ruolo di banca. Non serve soltanto per pagare le bollette, ma serve per i conti correnti, serve praticamente per i flussi finanziari, che sono tanti e ingenti, per cui non ci sono giustificazioni che tengano rispetto a un ufficio che, ripeto, oggi è la banca di Granieri. Conclude il sindaco di Caltagirone, Nicola Bonanno, che ha inviato un documento di protesta alla direzione centrale di Poste Italiane. A Granieri l'ufficio postale garantisce, quanto ai servizi finanziari, depositi in denaro di correntisti anche di altri paesi dell'Interland, ponendosi in alternativa a uno sportello bancario. Noi abbiamo sempre messo a disposizione i locali, a disposizione delle poste, per cui è un servizio indispensabile, che viene fatto a giorni alterni, per cui senza grandi costi per l'amministrazione postale. Riteriamo opportuno che questa struttura rimanga aperta, rimanga a servizio di una comunità operosa. Granieri non ha altre banche, non ha altri sportelli, è un'economia, invece rappresenta una frazione di Caltagirone con un'economia agricola fiorente. Grazie a tutti.